Nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo svolte nella intera provincia crotonese, la Polizia di Stato ha effettuato tra la fine di giugno e gli inizi del corrente mese numerosi controlli nell'area isolitana. In particolare sono state controllate circa 800 persone e 350 veicoli. In tale ambito sono state rilevate 15 infrazioni al codice della strada con due fermi amministrativi di mezzi. Nel composito contesto preventivo inoltre sono stati esperiti numerosi controlli amministrativi a cura della squadra di Polizia Amministrativa e con varie sanzioni elevate pari a circa 4.000 euro. Non di meno nell'attività di controllo per l'uso personale di sostanze stupefacenti si è proceduto ad elevare varie sanzioni amministrative con sequestro anche di sostanze stupefacenti. I risultati raggiunti risultano sicuramente soddisfacenti tenuto conto che l'attività ha riguardato complessivamente nove giornate dedicate a quell'area del territorio provinciale.